per l'aveno per l'aveno si va giù di là sulla destra ma vedo anche destra sinistra ma scusa ma di là non è sinistra o destra sulla mia mano e sulla destra l'aveno a destra sinistra e quindi a destra giù di qua ma lì dici anche sinistra come a sinistra varese l'aveno destra sinistra calca visera come mai cos'è forse perché si può andare sulla strada di là ma non ho mica capito cari amici prendi il cartello e anche con me con tutto con l'aveno e con me si ecco fatto amici mi sa che ci siamo persi l'aveno a destra o a sinistra appunto è una bella domanda ma non si capisce se si può andare a destra o a sinistra o è tutte e due le strade però ci troviamo con questa incognita l'aveno a destra sinistra ok e questo è il problema e mauri a destra sinistra ma che comunque secondo me come l'interpreto io si può andare sia di là che giù di qui credo che si metti di questo però non ho idea se poi dopo effettivamente è così ma se ha messo il due si sono ma secondo me è meglio la strada principale sembra cos'è una capra o un caprone detto qua non so forse è una capra ma sono simpatiche insomma cari amici siamo proprio in aperta campagna tra le capre e continuiamo bene un'altra capretta anche lì ciao bello eh deve essere un maschio col barbiglio no è un maschio eh ma mi sono stati a te perchè ha il barbiglio si ha il barbiglio hai visto che adesso vi faccio un po' che bello si 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 e quella deve essere la femmina o un altro caprone ma sono tutti caproni e cari amici veniamo adesso all'unboxing unboxing dell'usato dell'usato giornata del riuso l'unboxing cosa siamo riusciti a prendere mauri diciamo così qualche piccole cose che magari possono servire o no qualcosa lo può correre certamente cioè per esempio qui c'è un libro che allora un po' di cose l'ho preso io di Gennaro Cuglini un po' di cose l'ho preso di tu per Mauri naturalmente si raccontava tanto di questo libro eh Mauri si 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 che libro è di un libro che si racconta tanto eh gli uomini vengono da Marte le donne da Venere si è vero questo qui è un libro che sapevo che c'era è un libro incredibile e questo è il primo pezzo dell'unboxing io cerco di dare panorama il primo pezzo dell'unboxing questo libro è una parte in blu una parte in rosa a capire qual è la situazione tra uomo e donne ma sinceramente Mauri io sono 43 anni tra poco 44 magari una volta che sei molto più giovane di me che io ne ho 52 e la volta che eh ma tu ti sei già deciso in qualche maniera io eh vabbè non so se ti sei perso molto però vabbè poi abbiamo questo libro sicuramente allora cari amici non poteva mancare quel best seller eh gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere no? non poteva mancare è vero Mauri? giusto non poteva mancare però si dà il caso che dopo girando cosa abbiamo trovato cosa ho trovato? un libro della coltessa non so se l'avete mai sentita se la conoscete comunque in alcuni ambiti penso che sia conosciuta della contessa Laura di Bareccia eh Mauri non ne l'abbiamo mai sentita no però è un bel libro che dice come fare tra uomini e donne non nella trasmissione ma nella vita ma nella vita della vita che allora sinceramente io che sono ancora a scapolo e servivano una scapolone d'oro ragazzi una scapolone d'oro con questo libro donne accapparatevi germini donne accapparatevi germini e c'è donne di buona volontà accapparatevi germini e quindi questo era di un ambito che a me proprio mancava io non è che non prendo mai i libri tanto per prenderli se prendo un libro è perché ho un motivo ci devessimo e questo assolutamente serviva poi io ho preso un libro più diciamo più pomposo però comunque tutti i libri tutti i libri abbastanza interessanti questo è faccia a faccia con la mafia venga cari amici e quindi niente racconta la storia racconta la storia molto vicina a noi insomma protetti protettori e cos'altro Mauri e niente insomma tutte quelle padrini padroncini 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 molto Italy insomma insomma la nostra storia un po' vicina più che altro non la nostra storia assolutamente no in retroscena di quello che è l'economia mondiale perché dove c'è il denaro poi purtroppo c'è il malaffare c'è la mafia c'è il malaffare c'è poco da fare c'è poco da fare eh Gemini non è il momento di parlare del traffico naturalmente sapete che il Mauri va su argomenti molto non è il momento di parlare del traffico ti ricordi Gianni Stecchino? Gianni Stecchino io a volte certi argomenti ne parlo poi subiscio noi ci scherziamo ma mi divincolo da certi argomenti Mauri ci va proprio in pieno a parlarne quindi perché è un capitolo che un capitolo che insomma fa parte sempre dei intoccabili vi ricordate cari amici indoccabili il libro cioè il film intoccabili il film degli intoccabili e altro Mauri poi dopo io ho preso due federe che non così belle le decorate le federe troppo belle naturalmente poi troppo belle troppo grandioso cioè fantastiche accoppiata di federe non potevano mancare delle federe fantastiche io direi proprio ma sembrano appena uscite di fabbrica siccome diciamo in giro non le trovo nei negozi sono tutte uniche colorate poi naturalmente da un colpo di lavata dei colori comunque sono tenute molto bene sono veramente fantastiche ci fate già un buco nella borsa Mauri è un classico delle borse di plastica è un classico delle borse di plastica non per noi qualcosa abbiamo ancora belle cose da mostrarvi ecco per esempio questo quadretto un po' di un paesaggio e quindi prosegue l'omboccio un bel quadrettino di qualche paese in festa con i carretti in festa e quindi insomma niente diciamo che vado a vendere e tra l'altro non è una stampa ma è un dipinto è un dipinto originale fantastico e sono le 5 e mezza sono le 5 e mezza altro Mauri non c'è più niente no c'era no allora c'era il librettino e abbiamo presentato i tre libri le federe e la la cosa il quadro e non abbiamo abbiamo preso quello che era come ci siamo disposti cari amici abbiamo preso quello che ci poteva servire a me soprattutto per la psicologia allora c'è un fatto io penso assolutamente di saperne tutto di psicologia quando uno pensa di saperne tutto di psicologia quello può essere il primo errore Mauro perché forse non ha capito niente sicuramente si è un po' presuntuoso e di fatti scusate te lo dico cari amici molti psicologi mi perdonino di dire così sono anche divorziati io direi perché è vero Gennaro mi sa che il libro ti conviene questo libro mettilo via poi perché se lo perdiamo allora domanda se i psicologi sono divorziati che loro aiutano proprio la gente quindi ma sai Mauri perché io non sono divorziato perché non ti sei mai sposato perché non mi sono mai sposato forse ha fatto la cosa giusta però quando metteranno il divorzio per le scapoli state tranquilli cari amici prima cosa che farò divorzierò per essere al pari vostro di tutti noi diciamo che si può fare il divorzio per i divorziamo io divorzio dalla scatola non è giusto i single non possono divorziare no divorzerebbero da se stessi vabbè cari amici ci sono cos'è la cosa bella della vita poter avere un ambito scherzioso di tutte le cose che ci stringono eh poter avere un ambito scherzioso si insomma quindi ci scherziamo cari amici la vita va così però appunto quello che spiegano quei bei libri gioire del bello della vita di quello che dà la vita si infatti cioè bisogna accontentarsi di quello che passa il convento si poi dopo naturalmente c'è sempre spazio per migliorare nella vita non è che sempre uno deve essere sempre sfigato certo però gioire anche delle piccole cose e niente allora noi abbiamo anche e allora la nostra disposizione in questa fontanella che adesso è chiusa perché col freddo che fa sennò comunque una fontanella con un bel cos'è cervo si un daino 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 così viviamo la vita ok allora ultima importantissima cosa perché poi abbiamo il daino dietro perché era bello unirlo alle capre prima le capre che abbiamo fatto prima il video le capre che abbiamo visto adesso è come una continuazione delle capre di prima in effetti in effetti in effetti quindi per questo questa ambientazione ecco perché non a caso abbiamo appreso l'ambientazione sulla fontana a Cocchio Trevisago nella piazza nella piazza della Chiesa benissimo allora veniamo il dunque Mauri le cose importanti qual'era di questo video lancio il tuo canale lancio il mio canale dei tuoi due canali due canali di Mauri Channel che aprirà a gennaio tornerà ad aprire a gennaio veniamo il furgone che fa retromarcia vabbè veniamo il dunque e poi dopo di Urban's Movie di youtuber Mauri 2 c'è un furgone che arriva ma non mi fa inserito cari amici diciamo che ultimamente siamo rimasti un po' no no veniamo il dunque Mauri ed ecco cari amici importantissimo il lancio del canale di Mauri quindi iscrivetevi se potete se volete lasciate sempre un like su like su se potete se volete e niente mi raccomando ai canali del Mauri quali sono Mauri? allora sono allora Urbez i2 che è quello che si occupa di Urbez anche se adesso sto facendo un po' qualcosa d'altro e per cercare un po' di compensare le visualizzazioni e poi dopo c'è Mauri Channel e una vita in corsa che lo riaprirò a gennaio cioè adesso è bloccato per lo riaprirò a gennaio allora e contornerò con ancora delle novità se riesco a... spieghiamo quindi proprio a chi ci segue quindi abbiamo due canali importantissimi perché? perché comunque trattano arte trattano arte nelle due altre maniere in che senso? di Urbez conoscete quindi questi luoghi che andiamo a visitare luoghi antichi della storia della società antica luoghi da visitare e quindi il canale Urbez Movies youtuber Mauri 2 youtuber Mauri 2 di youtuber Mauri ok di Urbez dedicato a Urbez ok e il canale Mauri Channel una vita in corsa che tratta anche argomenti della società quindi Mauri si è perfetta quello che facevo con youtuber Mauri quello originale che poi chiusi ma voglio riprendere e quindi argomenti della società su Mauri Channel una vita in corsa che naturalmente cosa ha pensato giustamente Mauri di fare da gennaio quindi adesso siamo ecco la data oggi è il 17 di novembre 2018 e a breve quindi c'è un bel lancio del canale anche su Mauri Channel una vita in corsa argomenti della società si parla si 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 così almeno riuscite a dire beh comunque quindi urbez movis youtuber mauri 2 per gli urbez per l'arte una cosa certo insomma forse è stato un errore che c'era anche da dire che avevo molti erogne e adesso invece voglio occuparmi più delle persone però lottare tenere forte c'è bucata la borsa tenere forte oggi siamo riusciti a tenere forte a lottare per l'arte l'arte giusto e quindi cari amici mi raccomando seguiteci seguiteci e abbiamo fatto questa bella panoramica lasceremo i link e mi raccomando ok cari amici abbiamo fatto l'unboxing troppo bello abbiamo visto le caprette fantastiche qua abbiamo un daino bene salutiamo ciao a tutti Gennaro Giulmini e youtuber mauri col canale urbezmovis youtuber mauri 2 e il canale mauricannel la vita in corsa e iscrivetevi iscrivetevi almeno seguite insomma al 17 novembre 2018 mi raccomando seguiteci io spero che comunque non voglio pretendere di avere il richiamo che avevo prima ma comunque sicuramente almeno un pochino più di riscontro cioè perché giustamente stiamo facendo delle riscontro anche se so che il mondo di youtube è un mondo difficile con tanti no 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 con tanti youtuber veramente e come ti dissi mauri il colpo gobbo c'è il video che poi lancia tutti i video ok quindi prima o poi va bene noi salutiamo ciao cari amici Gennaro Giovannini youtuber mauri il 17 novembre 2018 ok ciao 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 ciao